Si aprono le gabbie, partiti cavalli della prima corsa. Subito veloce Nuraghe Irru che si porta al comando cercando di accumulare quanto più vantaggio possibile. In seconda posizione c'è invece Eric DeFighter con la giubba azzurra e striscia nera a cap bianco. In terza posizione la favorita Special Reason, in quarta all'interno troviamo Principe Libero e poi a chiudere il drappello Cain Camacho, la controfavorita. Rudere passato con Nuraghe Irru che non si sta risparmiando certamente per acquisire più metri possibile. In vantaggio nei confronti di Eric DeFighter, in terza posizione invece gravita la favorita Special Reason con la giubba arancio e nera, poi Principe Libero e Cain Camacho che invece ha preso la scia della favorita Special Reason. Curva affrontata sempre con Nuraghe Irru in vantaggio, adesso sono cinque le lunghezze di margine nei confronti di Eric DeFighter che attende il suo momento, Special Reason la cui schiena appunto è presa da Cain Camacho Principe Libero già abbondantemente richiesto, cavalli che entrano in dirittura d'arrivo e Nuraghe Irru che è in leggera difficoltà, allora Eric DeFighter si avvicina minacciosamente Special Reason che è la favorita che adesso deve chiamare a maggior impegno poi Cain Camacho che invece ne segue la corsia, Principe Libero che è nelle retrovie Eric DeFighter è in vantaggio, adesso superato di slancio da Special Reason Ci prova Cain Camacho che in maniera piuttosto cattiva va contro la favorita Eric DeFighter ancora in quota, gli altri due che si sono ecclissati a 200 metri dal traguardo è un match tra Special Reason all'interno che deve difendersi da Cain Camacho che comunque qualcosa ne ha, Special Reason contro Cain Camacho le due in lotta, Special Reason all'interno contro Cain Camacho fin sul palo, Special Reason mantiene qualcosa si apre il pomeriggio all'insegna della favorita Special Reason numero 7 dello schieramento Samuele Diana in sella il training è quello di Agostino Affei, i colori di Calogero Lupino 7-3 il primo ordine d'arrivo della giornata 1-25 la quota di Special Reason 1-40 quota fissa per Special Reason terza vittoria in carriera in 13 uscite è tutto per la prima Grazie a tutti Grazie a tutti